Lago dei Pontini, Comune del Magno di Romagna. Questo è uno degli spettacolari laghi che si trovano qui all'appendice del Monte Comero, assieme al Lago Lungo, al Lago di Ocopartita, poi ce ne sono altri minori che si trovano nella zona, però i tre più noti sono questi, luogo molto frequentato in tutte le stagioni, ora è inverno anche se non sembra dalle temperature, quando ero piccolo, parliamo di probabilmente 40 anni fa circa, nella zona di là ricordo che passava uno di quei trenini che si vedono anche al mare, nelle città insomma, che portano in giro i bambini, ne ho veramente un vago ricordo. A volte me lo chiedete, nel lago è assolutamente vietata la balneazione, in questo lago purtroppo sono morte delle persone, credo le ultime negli anni 70, però si sono annegate varie persone insomma, quindi è assolutamente vietata la balneazione perché è molto pericolosa, è comunque un luogo veramente stupendo da venire a vedere, come detto in tutte le stagioni, primavera, estate, autunno e inverno, anche se in questo momento non c'è neve. Un saluto dal lago dei Pontini.